Marcheggiani domani incontrerà la cittadinanza in vista delle elezioni amministrative. Quali sono innanzitutto i motivi che l'hanno spinta ad accettare la candidatura a sindaco? Noi abbiamo cominciato a incontrare le varie forze politiche per discutere un programma, una proposta, un progetto per la città. Dobbiamo dire, devo dire, che con i progressisti, che era un'area già costituita, abbiamo trovato un'unità di intenti, una convergenza, un interesse sincero sul progetto. Dopodiché è arrivata la proposta, anche un po' inaspettata, di guidare un po' questa coalizione, di assumere questa responsabilità. Io ho cercato di comprenderne i motivi profondi, veri, che mi pare ci fossero, e questo ci sta guidando nel confronto con i cittadini, i quartieri, le frazioni, le associazioni, per affinare un programma che presenteremo appunto sabato, domani mattina a Politeama. Quali sono i temi chiave al centro della campagna elettorale? Allora, innanzitutto abbiamo visto che serve rinsaldare un rapporto forte con i cittadini. Una volta c'erano i consigli di circoscrizione, i consigli di quartiere. Noi al marzo 2019 approvamo il regolamento per rifar partire i consigli di quartiere, poi tutto si è fermato. Noi vogliamo assolutamente che questi organismi funzionino e quindi uno dei primi punti è quello della partecipazione civica, della condivisione dei progetti, perché un'amministrazione non può sentirsi sola di fronte a certe responsabilità e ha bisogno di un'interfaccia continua con i quartieri, fare una città policentrica con problemi diversi da quartiere a quartiere e quindi serve questa interfaccia molto sentito. L'altra cosa ovviamente è un'amministrazione che deve essere solidale, che deve essere vicina ai più deboli, che deve proteggere tutte le fasce di età, perché siamo in un momento difficile dell'economia nazionale, ma anche dello stato d'animo. Abbiamo sofferenze negli anziani soli, ma anche negli adolescenti, e quindi pensiamo che i servizi sociali debbano essere operativi sul territorio e un'amministrazione più vicina ai bisogni si contraddistingue anche appunto col coinvolgimento del terzo settore, che è quello straordinario mondo del volontariato e dell'associazionismo di cui Fano è ricca. Queste le priorità, ci sono anche altre sfide? Beh, indubbiamente la salute pubblica, il diritto dei cittadini di curarsi attraverso la sanità pubblica, che per noi resta un punto di mente delle politiche. Quindi cercheremo di restituire quella funzione, quella dignità che l'ospedale Santa Croce ha progressivamente perso, perché è un ospedale di primo livello e siccome si rafforzano presidi sanitari nel territorio, come forse è anche giusto probabilmente, in questa riforma, si capirebbe poco che Fano, terza d'età delle Marche, che serve anche l'entroterra, non debba avere quelle funzioni in sinergia, per carità, senza doppioni, però vanno restituite delle funzioni importanti all'ospedale di Fano. Poi ci serve una casa della salute e un RSA, perché non abbiamo posti, e questo è un paradosso proprio per i 62 mila abitanti che rappresentiamo. Domani mattina a che ora incontrerai i cittadini? Alle 10 al Politeama si inizierà questa presentazione della coalizione, ci sarà una mia relazione sul programma elettorale, la possibilità di interventi dal pubblico evidentemente, perché già questo mese di uscita nel territorio ci ha consentito di fare una sintesi interessante, con spunti che continueremo a approfondire in questi due mesi.